Ciao mio caro amico aspirante, trader professionista e profittevole oggi è martedì 24 marzo 2020 e so che tu sei desideroso di vedere cosa ho combinato oggi ieri per me è stato il giorno off per il meglio ero al monitor ma non è accaduto quello che volevo a livello di vendita e quindi non sono entrato al mercato questo è un altro aspetto fondamentale del trader che guadagna sempre bisogna anche capire quando non ci sono i prezzi o le occasioni che fanno per te per la tua identità e non tradare altrimenti rischi solo di perdere e di farti del male bene, oggi è questo ieri abbiamo avuto una giornata a ribasso ma come vedi con un range piuttosto compresso e c'è una cosa importante che è accaduta qui dal market profile vedi? questo minimo della mattina dell'apertura non è stato rotto e quindi questo indica una cosa importante al mercato bene, durante la sessione asiatica il mercato ha rotto sul massimo di ieri durante la sessione londinese il mercato è qua in questa zona in questo scenario c'è questo livello color magenta che è ancora un livello importante della sessione di venerdì scorso il mercato come apre come apre come vedi il POC di ieri è qua giù il mercato come apre fa un veloce rally al rialzo per andare fino a arrivare a qua, questa linea qua io però il mio intento era di entrare selling perché selling? perché come vedi il mercato ha fatto 3-4 in un minuto ha fatto 3-4 assorbimenti qua di buyers e sapevo che questi buyers erano deboli e quindi sono andato con loro o meglio aspettavo smart sellers di entrare al mercato per andare a prendermi tutti questi weak buyers che hanno comprato un tick dal massimo overnight in questa gap up opening bene, il mercato come vedi arriva scusami a questa linea di ora che è il punto di mezzo di due sessioni fa di venerdì scorso il mercato qui sopra come vedi assorbe la liquidità va ancora più a rialzo però assorbe la liquidità e poi ecco, questo è il segnale la rottura di questa andiera rossa a un minuto ma io non mi sono basato su questo perché io ho messo semplicemente la mia entrata sul punto di mezzo pittuta di venerdì scorso il mercato mi esegue il mio stop loss strutturale sopra questo, non trovi bassi volumi questa linea color line della sezione market profile di venerdì scorso il primo target con 4 contratti è un tick o 2 prima di questa linea arancione il prezzo dell'apertura di oggi pittusa l'ultimo target è un tick prima del minimo debole qua giù che è che probabilmente dove i deboli compratori hanno comprato bene, il mercato mi va subito a prendere come vedi il mio target questo è il futuro a 5 minuti il mercato è rimbalzato proprio da questa linea strategiana era il POC di due sessioni fa ovvero si arrivi nel discorso il mercato dal market profile si vede proprio l'indicazione più importante il prezzo sarebbe andato a ribasso all'apertura e da qui poi il mercato mi prende 4 contratti a questo punto muovo il mio stop loss da qua sopra veramente dietro al punto di mezzo P2 si adevalo poi in qui questa è una strategia a blu e poi il mercato io decido di spostarmi dietro al COT di questa andella 5 minuti di questa andella qui a 5 minuti del footprint poi il mercato continua a ribasso io mi proteggo un po' di profitto andando dietro a questo big selling balance qua e poi il mercato purtroppo fa un rally e mi sto a pantare di stop loss ma non importa più di tanto perché con i miei 3.325 dollar di profitto sono a posto anche oggi oggi ho trovato con 5 contratti soli short perché abbiamo aperto for the range in questa gap up opening che per poi i ticket non ha chiuso ufficialmente diciamo una gap up opening che non è stato chiuso però io poi sono entrato short sul debole buying ok caro mio se anche devo andare con potere di vini è meglio molto meglio diventando profittevole nel mercato dei fiusi e dell'azione delle opzioni allora scrivi la tua storia adesso e mandovi il link sotto a questo video ciao ci vediamo domani